Sabato 10 agosto si terrà a Pescara la notte dello shopping, la notte di San Lorenzo, negozi aperti fino a tarda ora. È una bella iniziativa proprio al ridosso del Ferragosto, Assessore? Io direi una bellissima iniziativa. Voglio ricordare che a pochissimi giorni dal nostro insediamento il Comune è riuscito a organizzare una importantissima e mastodontica manifestazione che lo ha fatto grazie all'aiuto delle associazioni di categorie, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, Confesercenti, oltre che l'aiuto di tutti i commercianti del Corso Vittorio Emanuele e di tutto il centro commerciale naturale. Sarà una nottata all'insegno del relax e del godimento della propria città, dove tutti i cittadini pescaresi, spero tantissimi e anche da fuori città, possono venire e farsi una passeggiata, godersi tranquillamente la città, godersi i negozi che saranno aperti fino a tarda notte e godersi anche quegli spazi che abbiamo messo a disposizione proprio per favorire famiglie e bambini. Ci saranno infatti cinema all'aperto per bambini, gonfiabili, mercatini, band musicali, il tutto all'insegno della massima serenità e tranquillità. Il Comune, anche se si è insediato da poco, sta organizzando di continuo perché Pescara è una città chiaramente a forte attrazione turistica. Noi dobbiamo cercare sostanzialmente di rendere, di far venire più persone possibile nella nostra città. Questa sarà la mission che il mio assessorato avrà da qui ai prossimi cinque anni. Il lavoro è continuo e, come sapete tutti, stiamo cercando di creare dei grossissimi eventi. Il primo è quello che abbiamo tentato di fare, di portare il concerto del Jova Beach Party qui a Pescara. A breve, a giorni, sapremo la risposta che il prefetto darà a vasto. Stiamo organizzando una mega manifestazione per il ricordo di fiume che si svolgerà a settembre. Avremo per circa sette giorni un programma molto intenso sulla città di Pescara che si svolgerà dall'Aurum al Piazza Unione fino ad arrivare al centro della città. Comunque in cantiere sono previste tantissime altre iniziative che pian piano vi renderemo ai dotti chiaramente.